Buongiorno a tutti, sono la professoressa Paola Reggiani e oggi insieme scopriremo un programma indispensabile dal mio punto di vista per attuare in modo originale la didattica a distanza. Sto parlando del programma Screencast-O-Matic, un programma davvero intuitivo, semplice da utilizzare. Insieme affronteremo tutta una serie di passaggi a partire dallo scaricamento del programma fino alla sua reale applicazione messa in uso. Sono certa che sarà un utile strumento per movimentare le vostre lezioni o per produrre degli elaborati scolastici più originali. Passiamo subito a vedere come si presenta Screencast-O-Matic fin dalle sue prime fasi proprio direttamente sullo schermo del mio computer. Come potete vedere il programma è già presente sul mio desktop perché io lo utilizzo già da molti anni per creare video, video lezioni, contenuti multimediali, insomma tutto quello che mi può essere utile. Scaricarlo o comunque installarlo è molto semplice. Utilizziamo un qualunque motore di ricerca sul quale scriveremo appunto Screencast-O-Matic. Controlliamo bene l'URL del sito, è quello corretto. Entriamo, scegliamo la soluzione gratuita, tanto per le nostre esigenze andrà benissimo. Selezioniamo la lingua che ci serve, quindi l'italiano e facciamo Launch Free Recorder. Comparirà in basso il download, io non lo farò partire perché già ce l'ho. E quindi adesso arriviamo a parlare direttamente di come funziona il programma. Una volta scaricato e installato il programma sarà sufficiente fare doppio clic sull'icona del programma e poi scegliere se utilizzare registratore a pagamento oppure la versione gratuita. Lasciamo stare registratore PRO perché tanto a noi non serve. Scegliamo registratore gratuito e questo è ciò che vi comparirà. Vi comparirà un'area di lavoro. Vedete è quella che vi sto marcando con il cursore. E vi comparirà un menu. Questo bottone rosso è quello che serve per dare avvio alla registrazione. Questo annulla per chiudere l'interfaccia del programma mentre la ruota dentata serve per fare la propria scelta tra tutte le opzioni che la versione gratuita vi permette di sfruttare. Ad esempio per voi è possibile scegliere di registrare solo ciò che compare sul vostro schermo, solo ciò che viene catturato dalla webcam del vostro monitor. Ad esempio nel mio caso non vedete il mio volto perché il mio monitor non ha una webcam. Oppure potete decidere di registrare sia il desktop che ciò che viene proiettato dalla webcam, ad esempio il vostro volto. In questo caso se io adesso clicco non succede niente anche perché per riproporvelo ho fatto un'istantanea dello schermo ma nel caso in cui vogliate sfruttare entrambe queste possibilità potrete scegliere dove posizionare il vostro volto. In basso, in alto a destra, in alto a sinistra dove vi impedisce meno la visione di quello che state proiettando o registrando. La durata massima del video che potrete registrare nella versione gratuita è di 15 minuti. Sarà maggiore nella versione a pagamento ma in realtà non è una cosa che vi deve destare grande preoccupazione perché in caso potrete realizzare due video anziché uno e poi si sa che più il video è lungo più rischia di diventare noioso. A proposito delle dimensioni invece c'è un discorso più interessante da fare ma passo più rapidamente alla narrazione. Ad esempio nel mio caso io sto registrando l'audio attraverso l'uso di un microfono esterno, una sorta di gelato come quelli che usano Maria De Filippi. Non so se voi magari avete le cuffie con microfono incorporato quelle andranno benissimo. Mentre audio del computer è un'opzione disponibile solo nella versione a pagamento del programma e vi permetterà di catturare anche l'audio prodotto dal computer. Ad esempio i suoni di quando lanciate un certo programma oppure la musica di sottofondo ma lì poi entriamo in un ambito anche un po' più complesso. La musica prevede dei diritti d'autore e quindi io direi lasciamo stare. Adesso vi parlo anche dell'opzione legata le dimensioni della vostra registrazione. Si intende chiaramente le dimensioni dell'area da riprendere. In questo caso vedete che le opzioni sono molto dettagliate. 480 per esempio è una qualità più bassa, 720 un po' più ampia. Io normalmente utilizzo sempre finestra attiva perché mi consente di dare le dimensioni che voglio all'area da riprendere. Ad esempio ho preparato degli appunti per i miei alunni e voglio commentarli. Bene seleziono l'area per esempio un documento Word in cui compaiono queste righe che voglio commentare, questi appunti e mi registro mentre li commento. Mentre l'opzione schermo intero vi consente di riprendere proprio come ho fatto io all'inizio del video nell'interezza tutto quello che compare sul vostro monitor è un'opzione che io di solito non utilizzo anche perché chi vede il mio video poi vede tutto quello che io ho sul mio desktop e quindi non sempre mi pare opportuno. Io consiglio l'opzione finestra attiva perché vi permette di lavorare come volete. Mi permetto di farvi solo un esempio un po' più dettagliato. Questi sono alcuni appunti che ho preparato anni fa per una lezione di storia. Ecco che è possibile per voi creare i vostri appunti e commentarli in modo che i vostri alunni non debbano semplicemente studiare pagine da voi assegnate ma è possibile in questo modo guidarli nell'analisi delle pagine. Ho poi realizzato un video abbastanza dinamico vedete alla fine ho inserito anche i compiti per casa e ci ho allegato frecce, immagini, scritte più o meno colorate. La mia lezione risulterà sicuramente almeno un po' più dinamica, coinvolgente, interessante per i ragazzi e potrà spronarli a fare lo stesso quindi ad esempio a creare dei contenuti multimediali o degli appunti più accattivanti. Volevo anche precisare che è possibile far partire un countdown quando si decide di far iniziare il video quindi comparirà il classico 3, 2, 1 che non verrà registrato ma servirà a voi per prepararvi quei pochi secondi prima dell'avvio della registrazione mentre in fondo compare una striscia che vi permette di determinare intanto il tempo che state trascorrendo parlando e poi invece i 15 minuti quindi quanto tempo è passato rispetto ai 15 minuti che avete a disposizione in totale. Vi viene indicato anche se state usando un microfono e se state registrando anche l'audio del computer stesso. Una volta che abbiamo deciso di terminare il nostro video basta cliccare il tasto rosso, comparirà anziché quel bottone rosso, il simbolo della pausa in azzurro, vedete comparirà fatto, dobbiamo scegliere se modificare il nostro video oppure se salvarlo cliccate salva a meno che non vogliate cimentarvi in un po' di editing ma magari questo potreste provarlo quando avrete un po' di dimestichezza con il programma e qui ci sono tutte le varie opzioni del salvataggio tipo avi quindi una classica registrazione dovete scegliere il nome del file, inserirlo in quale cartella, scegliere se mostrare solo il cursore, il cursore evidenziato verrà cerchiato da una linea gialla oppure nessun cursore e se mettere dei sottotitoli oppure no. A questo punto dovete cliccare pubblica e la vostra registrazione verrà salvata nella cartella che voi avete indicato. A questo punto il vostro video sarà ultimato e salvato nel vostro pc non vi resterà nient'altro da fare se non condividerlo con i vostri alunni. Se vogliamo essere proprio precisi è possibile poi attraverso dei programmi di montaggio, di editing, modificare il video che avete registrato. Dipende un po' dalla vostra dimestichezza con le attrezzature informatiche. Vi lascio solo con una breve riflessione. Ripeto Screencast è un programma che io utilizzo nella versione gratuita, non ho mai sentito l'esigenza di passare alla versione pro da molti anni e penso che possa essere un valido sostegno alla didattica a distanza che secondo me può essere divertente e movimentare le giornate dei nostri alunni e le nostre solo se fatta in modo variegato e quindi è un momento molto importante anche per noi a livello di possibilità di formazione. Con Screencast potremmo creare lezioni commentate che i ragazzi potranno ascoltare e riascoltare più volte. Potremmo commentare dei video, potremmo commentare degli appunti creati da noi, potremmo commentare i libri di testo in versione digitale, le potenzialità di questo programma sono moltissime e ciascuno di noi è tenuto a piegarle alla propria fantasia. Se avete bisogno di qualche consiglio o se avete bisogno di ulteriori chiarimenti resto a vostra disposizione, nonché sarei felice di sentire da voi se magari aveste nuovi spunti per me, qualche nuova idea su come utilizzare Screencast magari in un modo che io finora non ho mai sperimentato. Vi auguro buon divertimento nell'imparare e nello sperimentare questo nuovo programma.